Oggi parliamo di una poesia che ai miei tempi si studiava a memoria elementari, e nei tempi precedenti ancora di più. Oggi è passata un po' in secondo piano, ma è stata riportata in auge da una scultura che ha fatto molto parlare di sé, di cui faremo qualche cenno alla fine del video. La Spigolatrice di Sapri però è soprattutto una straordinaria poesia, molto semplice, certo, ma anche molto intensa, e proprio a questo deve il suo successo. È una poesia risargimentale, fortemente patriottica, che rispecchia benissimo il senso del patriottismo dell'epoca, la volontà dell'autore, Luigi Mercantini, di raggiungere l'unità d'Italia e non solo, anche il riscatto delle marzze popolari, perché è proprio di questo che si parla. Nel suo complesso, la poesia, che è una ballata, infatti è un ritornello celeberrimo, erano 300, erano giovani e forti, e sono morti, tratta dell'impresa di Carlo Pisacane. Ma parleremo dell'impresa analizzando la poesia, visto che viene raccontata, anche se, vedete, in maniera non molto, come dire, non molto verosimile, con qualche licenza poetica abbastanza significativa. Ed è vista dal punto di vista della spigolatrice. Chi è la spigolatrice? La spigolatrice è evidentemente una donna estremamente povera, perché per sopravvivere è costretta a recarsi nei campi dove il grano è già stato mietuto per vedere se qualche spiga è rimasta per terra e raccogliere, cioè, ciò che i contadini proprietari hanno avanzato. Era uso concedere ai più poveri questa possibilità nella città antica. E lei quindi va a spigolare. Notiamo, mentre, durante la lettura, l'estrema semplicità del lessico. Ecco, qui non c'è niente del neoclassicismo di un Foscolo o di un Parini. È veramente un testo facile, di facile comprensione, a livello letterale. Poi ha tutti i riferimenti che a un lettore dell'Ottocento erano molto chiari e oggi, magari non così tanto, vanno chiariti. Però è facilissimo capire. Un testo, appunto, da studiare nell'elementare. Dice, erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Me ne andava al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco, e poi si è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra, scesero con l'armi, e a noi non fecer guerra. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Ecco, notate la rima baciata, molto semplice, spigolare, mare, vapore, tricolore. Veramente molto ballabile, quasi molto popolare, quasi semplice. Dice, erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. E, come accennavamo prima, l'impresa di Carlo Pisacane, questo bel capitano che poi conosceremo. Cosa voleva fare Pisacane? Chi era questo Pisacane? Beh, questo è un concetto piuttosto interessante, perché Pisacane non è soltanto un eroe del risorgimento, uno che voleva unire l'Italia. Era davvero un personaggio napoletano di origine, molto interessante, perché non si accontentava di sognare l'unità d'Italia. Lui voleva anche il riscatto delle masse disagiate. Cioè era un socialista, uno che sperava che insieme all'unità d'Italia ci sarebbe anche stata una sorta di eguaglianza sociale. Ed è per questo che la spigolatrice, poverissima, se ne invaghisce in qualche modo, simbolicamente, no? Perché qui la poesia ha anche un valore simbolico. Beh, infatti lui era un, diciamo, un intellettuale, un patriota, ma anche un socialista che aveva partecipato alla Repubblica Romana, da combattente, e preso poi da questa utopia ugualitaria, aveva deciso di imbarcarsi fisicamente in quest'impresa. Quest'impresa si basava sulla sua idea, forse ingenua, perché effettivamente era destinata al fallimento, della cosiddetta propaganda del fatto. Cioè solo attraverso l'azione possiamo smuovere le masse. E quindi lui con 300, no, meno, 20 persone aveva dirottato un vascello, un vaporetto, appunto, una barca che andava a vapore, verso Tunisi, andava, e dirottata sull'isola, sull'isola di Ponza. Quest'isola, quest'isola di Ponza, era un'isola dove c'era un carcere. Un carcere dove c'erano più di 300, in realtà ne direi però 320, 320 carcerati che lui voleva riscattare, no? Ma, attenzione, questi erano carcerati per motivi politici, ovviamente siamo nel regno borbonico, no? Quindi il carcere su un'isola così è di più difficile evadere, perché ovviamente uno dovrebbe farsela nuoto. Tra l'altro è un'isola molto lontana dalla costa, che la spigolatrice abbia visto questa impresa, cioè la liberazione del carcere, dei prigionieri del carcere, è veramente inverosimile perché erano oltre 100 chilometri di distanza. Comunque, fatto sta che Pisacane con i suoi arriva, riesce a liberare i carcerati e quasi tutti si uniscono all'impresa. Ripeto, sono pochi prigionieri politici, molti delinquenti comuni. Teniamo la mente perché dopo ci servirà, anche se nella trasfigurazione poetica in realtà sono tutti giovani, forti e eroi, insomma. Del resto, secondo l'idea di... egualitaria, i carcerati, anche i delinquenti comuni, sono degli oppressi e sono incarcerati perché manca giustizia sociale, altrimenti non sarebbero stati costretti a delinquere. E quindi lui li libera e va. Cosa fa? Prende questo, dirotta questo vaporetto, va a Ponza, si ferma, è stata un poco, ha liberato... la spigolatrice non lo sa in realtà, è a distanza quindi non lo vede. E poi è ritornata, è ripartita, è ritornata ed è venuta a terra, lì verso Sapri. Sapri è nel sud della campagna. Sceser con l'armi e a noi non fecero guerra. Ecco qui il paradotto. Loro scendono con le armi, sono tutti armati, ma non ci fanno, non fanno guerra a noi. Noi chi? A noi poveri. Ecco, sono venuti per il riscatto sociale. A noi non fecero guerra. Teniamo anche conto che normalmente gli eserciti quando si imbarcavano cosa facevano? Prima cosa, se non c'era nessuno a cercare di fermarli, facevano un po' di razzia nei paesi circostanti per procurarsi il cibo e le vetto vai. E loro invece no. Cosa fanno? Erano 300, erano giovani e morti e sono morti. Sceser con l'armi e noi non fecero guerra. Riprenda, riprenda la strofa precedente. Koblas, Kobfinitas, dicono. Sì, dice questa figura retorica. Ma si inchinarono per baciare la terra. Ad uno ad uno li guardai nel viso. Tutti avevano una lacrima e un sorriso. I disserlati, riusciti dalle tane, ma noi non portarono via nemmeno un pane. E li sentii mandare un solo grido, siamo venuti a morire per nostro lido. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Allora, l'idealizzazione è evidente. Qui i personali, intanto questi sono 300. Giovani, forti e sono morti. Ecco, com'è l'eroe? C'è anche Guccini. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Questi sono giovani, forti, valorosi e sono morti perché sono destinati al fallimento. Uno dei tipici valori, temi del romanticismo è il titanismo. Cioè l'eroe che affronta delle potenze enormemente superiori alle sue, delle forze enormemente superiori alle sue, è votato alla sconfitta, ma cionostante fa ciò che è giusto. Ecco l'eroe. Questi sono 300, pochi, giovani e forti e difatti sono morti. Fin dai primi versi del ritornello incombe su di loro la morte. Ma ciò non toglie che siano eroi, siano forti e anche giovani, cioè al pieno della speranza. E sono 300, tra l'altro. In realtà abbiamo visto che erano qualcuno in più. A parte che non veniva bene in rima, probabilmente erano 340, erano giovani e forti e sono morti. Ma al di là di questo 300 è un numero simbolico. Magari non tutti i lettori lo capivano, ma 300 chi erano? Beh, erano i 300 spartani che, anche loro tutti morti, si sono sacrificati per difendere la Grecia da Cerse. Quindi questo 300 è un numero anche significativo. Questa memoria sicuramente agisce. Sono 300 eroi. Ecco, come gli spartani di Leonida, anche loro si sacrificano per la patria. Ecco, scesero con l'armia, noi non fecer guerra, ma si inchinarono per baciare la terra. Ecco, la terra è la patria. La sacralità della patria è uno dei temi fondamentali del Risorgimento, evidentemente. Loro la baciano. E lei cosa fa? Ad uno ad uno li guardai nel viso e tutti avevano lacrima e un sorriso. Questa è un'antitesi, no? Ma perché hanno una lacrima e un sorriso? Un sorriso perché pensano alla grandezza di ciò che stanno per fare, ma una lacrima perché su di loro incombe la morte. Loro sono consapevoli di essere pochi. Sì, come la Pisacane, forse sperano. Qual era il progetto di Pisacane? Sperare che il popolo, il popolo di Campano, li aiutasse, insorgesse contro i despoti borbonici. Ecco, questa era l'idea di Pisacane, ma in realtà era un'idea ingannevole, che di fatti non si realizzò. E di fatti cosa succede? Gli dissero ladri usciti alle tane, quindi gli dissero che erano briganti, ma non portarono via nemmeno un pane, ma in realtà non rubarono. Ecco, la differenza tra le aspettative, armi ma non fanno guerra, gli dicono ladri ma non portano via nulla. E invece gridano tutti siamo venuti a morire per il nostro Lido, cioè per la nostra terra, una sineddo che in realtà serveva fare la rima per dire siamo venuti a morire per la patria. Grande patriotismo. Perché dice gli dissero ladri usciti alle tane? Perché è proprio questo che era saudetto ai popolani. Effettivamente alla fine non sarebbero stati uccisi gli ultimi della spedizione dai soldati borbonici, ma dai popolani che li vedevano come dei ladri, dei pericolosi briganti. E va detto che alcuni dei prigionieri liberati erano in effetti dei briganti noti alla popolazione locale, quindi erano visti come pericolosi. Il popolo, nella maggior parte dei casi, non capisce che sono venuti loro, che questi sono venuti per liberarli, ma li vede come un pericolo. Andiamo avanti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovine camminava innanzi a loro. Mi feci ardita e preso per la mano gli chiesi dove vai bel capitano? Guardò, mi rispose, o mia sorella, vado a morire per la mia patria bella. Io mi senti tremare tutto il cuore e ne poterei dirgli aiuti il signore. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Eccolo qua, pisacane. Com'è? Con gli occhi a... beh, erano giovani e belli. Con gli occhi azzurri e i capelli d'oro, biondo e occhi azzurri. Un giovane, ovviamente, camminava innanzi a loro. Ehi, si fa coraggiosa, ardita, e lo prende per maglie. Dove vai bel capitano? Lui lo guarda e risponde mia sorella, vado a morire, anche lui è consapevole il fatto che va a morire, per la mia patria bella, per la mia patria. Morire per la patria, grande valore. Effettivamente anche storicamente molti avevano sconsigliato a pisacane l'impresa in quanto disperata. Ma lui diceva, solo grazie a queste imprese si può scuotere la coscienza degli italiani, degli oppressi. Io mi senti tremare tutto il cuore, ne potrei dire, quindi mi sento cremare, sei fortemente emozionata e non riesci nemmeno a dire di fargli un augurio, no? E poi erano 300, erano giovani e morti e sono morti. Allora, io ho qui un'immagine di pisacane. Immaginate bel capitano con gli occhi azzurri, giovani, capelli d'oro. Eccolo qua. Aveva 39 anni, quindi non era più così giovane per gli standard dell'epoca. I capelli non sono proprio d'oro e appunto non era così giovane. Quindi è evidentemente una versione idealizzata. Mercantini sta idealizzando, sta facendo una trasposizione in ciò che dovrebbe essere. Anche vedremo la morte. Tutta l'impresa sembra avvenire in un giorno, in realtà durò alcuni giorni, al 30 giugno e al 2 luglio, ma non veniva bene. E qui invece sta scrivendo a Mercantini un'epica popolare. Tra l'altro cosa lui condivideva. Anche Mercantini era un patriota. Anche lui aveva combattuto per la Repubblica Romana, anche se non a Roma, ad Ancona, ma faceva parte dello Stato Pontificio. Anche lui era stato esiliato, quindi lui condivideva in qualche modo le idee di l'epica. Si era speso in prima persona per il patriottismo. Comunque, quindi, qui siamo, forse non mi piace di dire, siamo nel 57. Quindi, detto dal 30 giugno del 2 luglio, ma è del 57. Comunque, gli dice, vado a morire per la mia patria. E lei, appunto, presa nel cuore, invaghita dal capitano, si dimentica il suo lavoro. «Quel giorno mi scordai di spigolare, e dietro loro mi misi ad andare. Due volte si scontrar con i gendarmi, e l'una e l'altra li spogliar dell'armi. Ma quando furte la certosa ai muri, si udirono a suonare tombe, trombe e tamburi. E tra il fumo e gli spari le scintille, piombarono loro addosso, più di mille. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti, col titanismo. Un nemico estremamente più forte, non si può affrontare. Quindi lei si dimentica di spigolare, va dietro di loro, e vede che due volte si scontrano con i gendarmi, e tutte e due le volte gli tolgono le armi. Effettivamente, oltre all'isola di Ponza, ebbero un altro scontro, e a Padula liberarono altri prigionieri. Ma poi, a un certo punto, quando fu della certosa ai muri, sempre lì, probabilmente a Padula, poi ti dico perché probabilmente, sentono le trombe e i tamburi, e arrivano loro addosso le forze porboniche proponderanti, e li massacrano tutti. Perché ho detto probabilmente? Perché in realtà la storia è leggermente diversa, qui furono sia attaccati ai gendarmi, una pisacane con alcune decine di seguaci riesce a fuggire, si rifugia, prova anzi a rifugiarsi in un paese vicino, ma qui la popolazione li attacca armati di roncole. Pisacane dice ai suoi, non difendetevi, sono ingannati alla propaganda, qualcuno prova a difendersi, ma comunque vengono massacrati, anche pisacane forse viene ucciso, forse è di suicida per non cadere prigioniero, fatto sta che effettivamente muore. Erano 300 e non voller fuggire, ecco il coraggio, sono 300 contro 1000, tra l'altro anche armati molto peggio, e non vogliono fuggire, cioè questa parte dei popolani è taciuta, qui si parla soprattutto dello scontro con i borbonici. Parevan 3000, vollero morire, eroismo, no? Ma vollero morire col ferro in mano, e avanti a loro, correa, sangue, il piano. Fino all'ultimo, anche quando sono perduti, continuano a combattere, vogliono morire, ma combattendo. Finché pugnare, ecco unico latinismo, combatterono, vidi io per loro pregai, finché li vidi combattere sarebbe, io pregai per loro. Ma a un tratti venni me, ne più guardai, io non vedea più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Ecco Pisacane è morto, tutto eroicamente, concentrato, in pochissimo spazio. La poesia è, come dicevo, forse un po' semplicistica nel suo essere popolare, ma veramente bella, intesa. Parla di eroismo, di grandi sentimenti, di un sogno, potremmo dire, del sogno di Pisacane di riscattare le masse. E quindi la spigolatrice cosa rappresenta? Beh, rappresenta proprio quello che avrebbe dovuto essere, cioè i diseredati, i poveri, che devono essere riscattati, che dovrebbero seguire questo sogno. Non tanto Pisacane, che appunto viene rappresentato in maniera idealizzata, ma il sogno del riscatto, e quello sì, è bello, è eroico ed è un'utopia, perché effettivamente non verrà poi realizzato, l'Unità d'Italia avverrà con l'alleanza allo stato sabaudo, ma questo sogno rimane irrealizzato. Va detto che è un sogno, e è un sogno anche che le masse dei diseredati lo volessero, perché in realtà le masse, come vi ha detto Pisacane, un po' manipolate dalla propaganda, del clero e dell'aristocrazia, in realtà le vedevano con ostilità. E proprio in questo dramma sta il fascino di questa poesia. Dicevo, questa poesia, ho voluto commentarla perché bisogna partire dalla poesia per commentare secondo me anche la statua che ha destato scandalo, questa di Emanuele Stifari, una statua recentemente esposta appunto a Sapri, la foto di Riccardo Pesce è un'altra, la vediamo dopo, che ha destato scandalo per le forme che vengono messe in evidenza. Ci sono state varie polemiche su questo, il fatto che è troppo una sessualizzazione dell'opera, della figura femminile, effettivamente qui la bellezza viene esaltata, è molto poco coprente, la foto da dietro è evoluta perché è quella, questa è la parte che ha destato maggiore scandalo, diciamo. Però qualcuno obietta che effettivamente statue di nudi femminili ci sono sempre stati fin dall'epoca classica, tra l'altro la spigolatrice di Satri è un personaggio letterario, quindi non è neanche un personaggio reale, perché i nudi di persone biograficamente reali non erano tanto in voga in realtà, ma è un personaggio letterario. Qualcun altro obiettato che le spigolatrici non si vestivano così, ma anche questo francamente a me non sembra un'osservazione particolarmente calzante, perché in realtà l'arte ha sempre teso a attualizzare ciò che rappresenta, anzi il bello forse è proprio il fatto che l'arte non sia documentaristica, ecco, deve dirci qualcosa. E quindi non necessariamente la spigolatrice di Satri deve essere rappresentata come, vestita come una spigolatrice dell'epoca. Tra l'altro della spigolatrice di Satri non ci viene detto nulla nella posizione di mercantini, come avete visto. Io ho questa qui una foto famosissima di Caravaggio, della vocazione di San Matteo di Caravaggio, e qui siamo in teoria nel primo secolo dopo Cristo, eppure sono vestiti come contemporanei di Caravaggio, anche qui decontestualizzato, oppure questa è arte di sicuro. E allora cos'è che non ha la spigolatrice? Perché questa spigolatrice non è bella? Perché non sia arte, questo secondo me non si può dire, perché l'arte scandalizza e è veramente difficile dirlo. Quello che secondo me, quello che è la mia idea, questa è un'altra foto della spigolatrice di Satri, sempre a Satri, che però guarda il mare. Ecco, due cose. È vero che l'arte può fare scandalo, forse deve fare scandalo, ma in questo caso l'arte non propone dei caoni nuovi, ma sembra essersi un po' adattata ai caoni imperanti di oggi. Ecco, forse l'arte che fa scandalo nell'attualizzare dovrebbe proporre qualcosa di alternativo ai valori dominanti. Questa però, ripeto, non è un'opinione personale su questa statua. È arte? Non è arte? Non lo so. Ma posso dire che non è un'arte che mi piace molto. A me, devo dire, non piace moltissimo parte significativa dell'arte del Novecento, ma questo è un altro discorso. Però è neanche tanto questo il discorso. Il fatto è che questa spigolatrice di Satri rappresenta la massa sfruttata come voleva Mercantini? Ecco, secondo me il vero difetto di questa statua è che non rende lo spirito della poesia. Questa è una donna generica che viene affascinata da un bel capitano, da un bell'uomo che passa di lì. La sua caratterizzazione anche sociale e politica, quindi la sua rappresentatività, quello che rappresenta nella poesia, si viene secondo me a perdere, non viene ben espressa. Secondo me è questo il difetto di questa statua, che peraltro dal punto di vista, diciamo, come dire, realizzativo non può essere particolarmente criticata. Però, ecco, forse non riesce a comunicare lo spirito della poesia ed è per questo che siamo partiti dalla poesia per arrivare alla statua. Questo è un po' il mio punto di vista. So, opinabile, so che è opinabile, ma del resto l'arte è tale perché è opinabile.